bentornati crypto gamers io sono master wash membro della community discord nft italia quest'oggi analizzeremo un progetto gaming molto molto particolare vi chiedo soprattutto chiedendo ai crypto gamers vi è mai capitato di fare da liquidi di providing quando usiamo pancake swap sushi swap radium andiamo a swappare token riusciamo a farlo perché ci sono dei soggetti che mettendo in stake la loro liquidità ci consentono di swappare i nostri token senza problemi questa operazione che risulta comunque retribuita potrebbe non interessare ad un gamer potrebbe non averci mai pensato di fare da liquidi di provider bene esistono dei giochi come the field o ad esempio se lo conoscete defi kingdom questi due progetti vanno a fondere la parte di exchange decentralizzato e la parte di ghibify creando così un ghibify decentralized exchange perché oggi vi parlo di defiland molto semplice defiland si appoggia sulla blockchain di solana attualmente non esistono altri progetti come questo su questa blockchain inoltre come vi mostrerò in questo video a molti punti a favore come un team con delle ottime esperienze degli investitori molto importanti un progetto che già in open beta questo è il sito vi lascio il link in descrizione come vedete possiamo comprare il token tramite exchange centralizzati o decentralizzati radium ed isolana è un dex come pancake swap ftx invece come binance è centralizzato possiamo trovarli praticamente su tutti i social sul disco vi rispondono sia il team che altri utenti dato che per ottenere l'accesso attualmente dobbiamo essere attivi all'interno dei ad esempio del disco or comunque parliamo di un paio di giorni salvo imprevisti sarà cioè sarà consentito l'accesso anche agli holder di dfl il token di defiland progetto attualmente in beta già offre diverse opportunità e servizi il loro scopo però è diventare letteralmente un gioco è un è un exchange decentralizzato per già aggiungeranno in un secondo momento nft obiettivi task crafting minigame e altro ancora la road map vedete siamo ancora all'inizio soprattutto vedete gli ultimi obiettivi sono importanti hanno intenzione di fare partnership con altri block chain game il team il team come ho già detto potrete parlare con loro attraverso il disco ordo ovviamente di cose importanti se no solo alcuni di loro vi rispondono perché hanno una parte di community leggeremo in un altro documento la loro storia e poi gli investitori possiamo già vedere da qua dei titoli come animoca brand solana foundation e molto 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 ancora ok è importante capire che il gioco non si ferma semplicemente al partita che stiamo facendo vinco la partita sono bravo nel gioco no i giochi in block c sulla block chain richiedono skill nel gioco ma anche nella parte della finanza ok partiamo defiland è nella versione 1 attualmente quindi fa soprattutto effettivamente da exigeni decentralizzato lo swap i vt providing stake governance questo non ancora le land customizzabili questo la modalità non è ancora uscita e gli achievement ancora non sono usciti versione 2 invece viene dimifizzata al 100% il team il team ha un'esperienza a 365 gradi parliamo di esperienza a livello finanziario a livello di marketing a livello di programmazione e block chain eccoci qua per la prima volta dopo aver inserito le nostre credenziali all'interno del gioco perfetto posso tenere traccia del mio portafoglio i miei achievement ottimo il market ok posso scambiare i miei asset per altri in che senso ok rappresentano delle cripto valute ok ed è ovviamente come un qualsiasi dex con lo swap di con il fornimento di liquidità ok funziona con serum ok daranno ne aggiungeranno molti altri in futuro ok e questo è lp creole leppi che poi lo metterò lo pianterò nella mia farm che in realtà lo staking ok bellissimo non male non male eccola qua la farm ok ho appena creato il mio lp che sarebbero questi semi posso andare nella farm e li posso cantare cioè mettere in stake posso ovviamente raccogliere i frutti guadagni diciamo dall'harvest o posso ansticare ciò cos'è eccoli qua i token aspetta cosa ok quindi molti token sono a eccola va detto non stati come patata in realtà poi prenderanno delle altri utilizzi in futuro quindi nuove immagini sicuramente ok ecco in ethereum opposto house questo è il mio wallet praticamente a tappi former inventario arriverà leaderboard ok mazza quindi fa una gara per xp il market praticamente il market esatto è uno swap in game che si appoggia su serum bellissimo idea ok ma che un trattore eccoli quale farm prima andiamo eccolo qui vediamo i lp disponibili ok preparato i fondi quindi vi spiego la procedura perché ho dovuto verificare che tutto funzionasse correttamente sono andato a selezionare il token dfl noi andiamo a usare quella di usd c la coppia esiste mettendo max praticamente 30 dollari dfl 22 sdc lì ci mette 20 dollari e 20 dollari maxid e ci crea un nuovo token che la fusione di questi due non vi preoccupate possiamo ritornare qui per e fare un processo all'incontrare quindi di ottenere i token passiamo alla farm io ho già messo in steak ci ho piantato il seed della coppia di fl usd c come vedete c'è già questo è la pr 179 per cento annuo se faccio harvest ottengo il risultato che sono 10 dfl questo è il valore della coppia ovviamente attenzione dovete conoscere un pochettino come funziona quando abbiamo due token nella stessa coppia quindi ad esempio l'impermanente loss potete tutte sono tutte cose che potete cercare su youtube oppure chiederle a noi su discord i giochi questi sono dei piccoli giochini in beta mi aspettate nulla di speciale questo è un memory game quindi giocando ottenete letteralmente di xp che serviranno poi per la leaderboard e altro questo è uno space invader con gli uccelli concludere i livelli di da di xp ricordo che vi lascio in descrizione anche altri link utilissimi per questo progetto grazie a tutti per la visualizzazione noi ci vediamo in un prossimo video grazie a tutti grazie a tutti